Il bilancio è positivo per i listini azionari europei. Giornata rialzista anche per piazza affari. Nel comparto energetico, seduta in lieve rialzo per il petrolio, che avanza a 66,43 dollari per baril. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati in Unione Europea il dato sui prezzi al consumo, pari a 2,2%, e il dato sul tasso di disoccupazione, che si attesta su 8,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli occupati ADP e delle scorte di petrolio? Attesa una partenza positiva per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.897 punti. Grazie a tutti.